Davvero ho fatto un'intera unità di scienze ed è volata. Quante è la unità? Quante pagine sono? Allora, quest'unità saranno state, cioè non era tantissimo, però una decina di pagine comunque. Cioè, guarda che dieci pagine sono tante, cioè farle in così poco tempo è bello, bello arzillo e forte del contenuto che hai imparato, complimenti. Che differenza hai visto Tommy? Ho visto la differenza del fatto che io comunque col metodo di leggere e poi senza fare comunque schemi, senza cercare di associare un po', dovevo magari ripetere anche più di una volta. Molte volte, molte volte, parecchie volte mi dimenticavo alcune cose, alcune volte erano proprio cose essenziali che poi la prof in classe me le chiedeva e quindi andavo poi in panico in classe. Invece con questo metodo c'è prima, seconda volta che ripeto comunque e le cose le so, quindi ha velocizzato di molto il mio studio.